Sindaco, lei ha ingaggiato una bella battaglia con Irem per la gestione della pulizia di Lerici e quindi la gestione dei rifiuti. In primo grado davanti al TAR le hanno dato torto. Come pensa di poter proseguire? Proseguiamo, stiamo già proseguendo perché lo studio legale che ci segue sta già preparando il ricorso al TAR, chiederemo di far valere le nostre ragioni in appello, appellandoci a questa sentenza perché io ho letto le motivazioni, non mi hanno convinto nel modo più assoluto, rimango anzi rafforzato dalla decisione del TAR sulle mie decisioni e come ho detto, siccome sono fortemente convinto che i miei concittadini abbiano diritto di godere delle riduzioni che arrivano dal fare una gara su un appalto così importante, io andrò avanti, cioè rassicuro i cittadini di Lerici che l'amministrazione su questo tema non molla. Spesa pubblica da ridurre, ridurre le tasse e garantire quindi che ognuno non paghi un euro in più di quello che è dovuto per svolgere quel determinato servizio. Oggi paghiamo quantomeno 600 mila euro in più all'anno di quello che a mio modo di vedere ma come risulta da una gara, non una proiezione così astratta ma da una gara svolta, è mancata solo la giudicazione e questa gara poi è stata annullata dal TAR una gara svolta ci ha detto che è vero che si può risparmiare e il risparmio è di ben 600 mila euro tutti gli anni di Tari da pagare in meno per tutti i Lerici. Ecco, senza senso, ma se il risparmio è così significativo, così importante, perché è così solitaria la battaglia del Comune di Lerici e non è riuscito ad aggregare altre amministrazioni? Ma io questo non lo so, ecco, io so solo che la mia gara, la mia battaglia, che non è una guerra, è una battaglia politica, è una battaglia che si basa sul fatto che io prima di tutto sono tenuto per legge a fare la gara perché non avendo un rapporto di socio in house con IREN, cioè l'in house significa che io posso affidare a una società un appalto senza fare gara perché su questa società ho un controllo per il quale decido io cosa deve fare nella sua vita quella società, almeno per l'80% della sua attività, se non c'è questa situazione è cosa che non c'è perché io con IREN non ho alcun rapporto, sono terzo rispetto a IREN, non sono socio e quindi non vedo come possa essere in house, se non sono in house sono tenuto a fare le gare. Bene, l'intervista completa al sindaco di Lerici Leonardo Paoletti questa sera alle 21.30.